Una notizia degli ultimi giorni, subito rimossa se non dimenticata, è l'uccisione di quattro palestinesi ad opera degli egiziani che hanno utilizzato del gas benefico alla maniera nazista. I quattro palestinesi stavano scavando o utilizzando comunque una piccola galleria di collegamento fra la striscia di Gaza e il territorio egiziano al fine di far transitare merci e generi di prima necessità in direzione della popolazione della striscia di Gaza che ha bisogno di tutto, assillata com'è da un feroce blocco israeliano che impedisce il libero scambio di merci. Impedisce perfino di far affluire cemento per ricostruire se non altro ciò che i bombardamenti hanno distrutto. Ebbene, mentre i quattro palestinesi stavano lavorando in condizioni terribili, pensate in questo cunicolo, in questo tunnel, carponi con poca luce, col pericolo continuo di crolli, sono stati individuati dagli egiziani, i quali stanno costruendo una sorta di barriera di ferro che scenderà fino a 30 metri di profondità. Gli egiziani, non appena li hanno individuati, con una perfidia, che non riconosciamo nessun animale vivente, hanno immesso del gas benefico all'interno del budello e hanno ucciso i quattro palestinesi. La cosa che ci ha stupito maggiormente è l'atteggiamento europeo di totale indifferenza. Passi per gli Stati Uniti e per lo Stato di Israele, che da anni ormai esercitano una politica canagliesca nei confronti dei palestinesi. Ma gli Stati europei, così pronti a stracciarsi le vesti di fronte al dissenso cubano, quando è dimostrato che i dissidenti distano dalla delinquenza comune molto poco, lo prova la presenza di quel Posada Carrillos, forse il più grande terrorista esistente al mondo, che ha ispirato non meno di 3.500 attentati sul suolo cubano con migliaia di vittime, superprotetto dagli Stati Uniti e che ha fatto parte, a suo tempo, della CIA e dell'FBI. Quanto stanno facendo Stati Uniti e Israeliani con i loro complici egiziani non nasconde a sufficienza il proposito di far far la fine ai palestinesi degli indiani d'America. Anzi, gli israeliani pensano a qualcosa di più, non bastano loro le riserve, pensano direttamente ai campi di concentramento, qual è oggi di fatto la striscia di Gaza. Uniti e E dropive un'ambiente